Quali sono le novità in Windows 10? Prima di tutto la condivisione dei rilasci, cioè delle modifiche con gli utenti. Questa è la prima volta nella storia che Microsoft fa un rilascio, una technical preview, cioè un'anticipazione tecnica e condivide le novità con tutti gli utenti. Ovvero questa versione che ti sto facendo vedere, guarda, era Build 9841, non sarà la versione definitiva che verrà commercializzata alla fine del 2015. Ma è ancora una versione, diciamo, la beta al grezzo, ma che verrà aggiornata tramite Windows Update di frequente e sta facendo partecipi tutti i suoi utenti, come con dei fumetti qua in basso a destra, man mano che te utilizzerai il tuo Windows 10, vedi già ho fatto un aggiornamento da Windows Update con successo, man mano che lo utilizzerai appariranno qua in basso a destra delle domande, ad esempio a me apparsa come ti trovi con Windows Update e volendo se clicchi sull'omino in basso a destra puoi rispondere e mandare il tuo feedback. Quindi questa è la prima novità in Windows 10. La seconda novità in Windows 10, oltre al menu Start e ci arriviamo, abbi pazienza, se te clicchi sul Welcome Screen, ovvero qua, vedi, su Welcome to Tech Preview, cioè ti dai il benvenuto, se te ci clicchi, ti puoi registrare per l'Insider Program, qua diventa un Insider, ovvero puoi partecipare ancora più attivamente a questo programma di Windows 10 che fa partecipi, i suoi utenti, le imprese in questo caso, quindi se clicchi qua e ti iscrivi riceverai tutte le ultime build in alteprime e potrai accedere a un'app di semplice utilizzo per i tuoi commenti. La terza novità che tutti hanno notato in Windows 10 è il menu Start che è tornato più fluido e veloce di prima e molto funzionale. Inoltre, oltre al menu Start e anche al bottoncino tutte le applicazioni che puoi scorrere, alla destra ci sta lo spazio per i tiles cosiddetti. Questi sono riguadri che puoi personalizzare a tuo piacimento, come vedi, sia trascinandoli ma anche rimuovendoli. Qui puoi posizionare tutte le tue app, vedi, ad esempio se clicchi col tasto destro su un'app e clicchi Pin to Start, ovvero aggiungi allo start, come vedi viene aggiunta. Puoi personalizzarla non solo con le applicazioni ma anche con siti web, amici, preferiti ed inoltre è anche personalizzabile, ovvero allungabile al massimo per chi vuole avere la massima visuale, molto fluido tra l'altro, o addirittura schiacciabile fino a renderlo quasi orizzontale. Ed è un ottimo compromesso fra Windows 7 e Windows 8, come puoi notare. Quindi è tornato il menu Start, tanto decantato da tutti ed è snellissimo e molto veloce. La quarta novità in Windows 10 è la ricerca, che è tornata, come puoi vedere. Ci stanno due tipologie, ci sono due tipologie di ricerche. Questa, ad esempio, ovvero appena apri il menu Start su questa barra di ricerca, un po' analogo al Linux Ubuntu, ti ricerca sia all'interno del tuo computer, ad esempio questa è un'immagine di video ripetizioni, infatti overfile location, come puoi vedere, ma anche online, quindi ti ricerca la parola, il termine di ricerca, sia all'interno della tua macchina, ed è molto snella, molto veloce e indicizzata, ed anche online, quindi su internet. La seconda tipologia di ricerca è questa lente di ingrandimento, che clicchi qua. Questa lente di ingrandimento ha la stessa funzionalità, addirittura è esaltata, quindi oltre che all'interno del menu Start la puoi trovare anche qua. La quinta novità, non meno importante delle altre, è il multitasking, è ciò su cui punta tantissimo Microsoft. Il multitasking che cos'è? Significa fare più cose contemporaneamente. È molto sconsigliato perché abbassa tantissimo la produttività, però purtroppo, per fortuna, al giorno nostro, sia per lavoro che anche nel tempo libero, ci si ritrova spesso ad avere 20.000 cose aperte. Dimmi se anche a te non ti è mai capitato. Quindi ti trovi 20.000 cose aperte, poi magari ti arriva una telefonata e quindi ti ritrovi ad avere 30.000 cose aperte. Ecco, Windows punta molto sul multitasking. Quindi dal momento che ti trascini verso destra, ad esempio, un riquadro, come vedi, Windows 10 ti suggerisce di metterlo a metà schermo e poi ti fa visualizzare anche le altre cose che hai aperto, ad esempio questa. Ad esempio, se stessi lavorando sia sul portale web Videoripetizioni che sul canale YouTube Videoripetizioni, facendo questo semplice trascinamento verso destra, lui me le propone entrambe le finestre a metà schermo. Non solo, se metto l'icona questa, ovvero il portale web, Windows 10 mi fa vedere la finestra sotto. Questo è chiamato multitasking proprio dall'inglese, ovvero fare più cose in contemporanea. E ad esempio, posizionandoli in questo modo, sia trascinando i bordi delle finestre, così tenendo spinto il tasto sinistro del mouse, che trascinandole proprio per il tile, quindi per la parte superiore della finestra, come vedi, ti può divertire a posizionare in maniera diversa tutte le varie finestre e scegliere che cosa mantenere aperto a metà schermo, addirittura ti può ritrovare anche 4 o 5 cose diverse aperte in contemporanea. A proposito di multitasking, se fai con il tasto Alt Tab, anzi scusami, con il tasto Windows Tab, come vedi qua in basso appare la scritta Ada Desktop, che in inglese vuol dire aggiungi un desktop. Eccola qua. Come vedi ho aggiunto un nuovo desktop e non ho più niente a icona, nonostante nel desktop vecchio, che è questo, avevo 4 finestre a icona. Te le faccio rivedere, una, due, tre e quattro. A proposito di multitasking, è stato introdotto proprio l'opzione di aggiungere un desktop, ad esempio se stai facendo tante cose le puoi ordinare per argomento, ad esempio il primo desktop, cioè questo, questo precedente, è il desktop magari del lavoro, perché sto lavorando a quattro applicazioni diverse, vedi, sto lavorando sullo store, sul canale YouTube, sul disco locale, magari sto facendo qualcosa, sto cercando una cartella, e sul portale web. Il secondo desktop, che è questo, potrebbe essere il desktop per le cose che fai a casa. Quindi copia un po' Linux, consentimelo, e anche la Apple, quindi il Mac, e ti permette Windows 10 di aggiungere nuovi desktop. Addirittura qui abbiamo creato uno, due, tre, quattro, cinque desktop e puoi continuare a crearne altri. Desktop intesi come spazi di lavoro e puoi fare ordine. E ti confesso che è molto fluida come cosa. L'idea è quella di dedicare ad ogni desktop, ad ogni scrivania, spazio di lavoro, un ambito differente. Ad esempio puoi distinguere, come ti ho detto, il desktop di casa, quindi del tempo libero, rispetto al desktop del lavoro. A proposito di multitasking, ovvero fare più cose in contemporanea, che la maggior parte degli studiosi sconsigliano perché abbassa la produttività. Solo le donne hanno una marcia in più e riescono a portare avanti tre o quattro cose in contemporanea, bene, questo lo dobbiamo ammettere. Noi uomini la dobbiamo fare una per volta e fatta bene. Quindi Windows 10 è per le donne, non è per gli uomini, adesso scherzo. Al di là quindi del multitasking, non so se ci hai fatto caso, ma una cosa che mi ha colpito molto sono le app, che ad esempio, apriamoci l'app della music, della musica quindi, mentre in Windows 8 e 8.1 personalmente mi dava molto fastidio, soprattutto nei dispositivi touchscreen, tipo i tablet o anche i portatili, adesso escono touchscreen anche fissi, le app si potevano aprire tutte a tutto schermo, mentre qua in Windows 10, questa è una segnalazione che hanno raccolto da almeno un milione e mezzo di utenti, la Microsoft, le app le puoi ridurre a icona, così, le puoi trattare come qualsiasi altra finestra normale, quindi trascinare, ridurre a icona, mettere a tutto schermo e minimizzare. Questo è importantissimo, soprattutto per chi usa le app e soprattutto per i dispositivi mobili, quindi pensato sempre ai tablet e touchscreen, questo multitasking funziona, è snello, hai più desktop e funziona. Oddio, mi sono perso, eccolo, questo è il desktop, quello iniziale. Come ultima novità di Windows 10, non si offenda a nessuno, secondo me è un ottimo compromesso fra Windows 7 e Windows 8, siamo arrivati alla nona novità, non ne facciamo di più, secondo me è molto stabile, sembra molto stabile e fluido questo Windows 10, e credo proprio che sarà un successo, te lo dico con imparzialità, sarà rilasciato a fine 2015, quindi può essere solo che migliorato, grazie ai commenti che stanno facendo tutti i tester in giro per il mondo. Per ora sono rimasto molto soddisfatto, questo te lo dico proprio con imparzialità, e per me è una novità che è fluido e funzionale, finora non si è ancora bloccato, nonostante è un rilascio in test, vedi, una evaluation copy build 98.41. Quindi l'ultima novità è che è stabile e fluido, non si offenda a nessuno, lo dico sinceramente, secondo me sarà un successo a fine 2015, questo Windows 10, te lo dico adesso che siamo ancora nel 2014. Mi sono scordato qualche novità, secondo te, ci può stare, scrivimela nei commenti, ti invito a iscriverti al canale YouTube, video ripetizioni, alla newsletter, guarda appena entri sul portale web, se entri dalla pagina principale puoi scorrere verso il basso e alla destra trovi la newsletter, qui scrivi il tuo nome, qui la tua migliore email, clicchi il bottone iscriviti subito, abbi pazienza 3 o 4 secondi e verrai registrata nella newsletter e così non ti perderai le ultime novità, non solo di Windows 10 ma di video ripetizioni in generale. Poi non ci chiudere, ma se hai Windows 10 utilizza il multitask e fai qualcos'altro, ad esempio visitare anche il nostro canale YouTube e te lo metti qua. Ecco, adesso col multitasking puoi visitare anche il portale web ed in parallelo anche il canale YouTube. Ma cosa vuoi di più della vita? Ti ringrazio per la tua attenzione, per il tempo che ci hai dedicato, ti invito a lasciare qualche commento, soprattutto se mi sono scordato qualche novità, perché sono tre giorni che lo testo e altro non mi viene in mente per ora. Ti saluto e ti auguro un'ottima giornata. Ciao! 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 Grazie a tutti.